È possibile partecipare gratuitamente alla dodicesima edizione della settimana della cultura. In questa occasione infatti il Ministero per i beni e le attività culturali offre l'accesso gratuito ai luoghi statali dell'arte e sono stati trasformati in catalizzatori di eventi e manifestazioni in forte richiamo. Allora io vi dico che per esempio a Milano ci sono due mostre meravigliose tra le altre impero cinese, impero romano a confronto, palazzo reale e poi c'è una bellissima mostra fotografica di Stanley Kubrick a piazza dei mercanti. Quindi per i milanesi non solo, guardate che sono delle mostre stupende che vale la pena di andare a vedere. Non c'è dubbio, non c'è dubbio.